vai si parta l'avventura speriamo dobbiamo fare altri tanti blocchi che vuol significare che siamo arrivati di già non credo però che nella versione vanilla di minecraft ci siano le scarpine di minecraft di slimeball non credo che si possano craftare vabbè non fa per noi quella casa niente qua la situazione è lunga lo so che si parte all'avventura però guarda qua già è notte ho trovato alcuni villaggi tipo questo dovrebbe essere questo chi ha la ferrovia no e basta che cazzo dico non lo so ah c'hanno il portalone avete il portalone anche voi va bene eh me lo frego me lo posso fregare scusate lo prendo in prestito lo prendo in prestito non si però eh andiamo a vedere la fontana blu là che cosa c'è questo è qui se rompiamo eh vuol dire le ossa te le puoi anche tenere tanto per i cane non lo so dovremmo fare un qualcosa qua abbiamo la miseria quanta bella roba mazza mi da niente mangia perché questo lo mettiamo qua questo lo mettiamo qua questo lo mettiamo qua questo 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 lo mettiamo qua questo non mi serve attualmente eh papà papà ah davvero devo fare così questo lo mettiamo qua e stiamo a posto così questa spada non ha ammazzato nessuno adesso ammazzerai il drago spero le bottigliette che prende il soffio del drago allora organizziamoci facciamo così mettiamolo un attimo qua mettiamolo intermedio casa è il problema che non ho molti non ho molti piume e quindi no cazzo sto facendo non ho non avendo molte piume non non so se ce la faccio adesso vediamo un po' adesso vediamo più ma soprattutto le piume dove sono le piume dove sono le ho messe da qualche parte sicuramente le ho messe da qualche parte ma dove e non mi ricordo qua no qua qua no qua no qua no qua ah dieci non credo che bastino ah il cordone obellicale dove qua perché giustamente dobbiamo quando c'è 3 o 2 non mi ricordo e non mi ricordo mi da un po' di bastoncini grazie allora facciamo ricce ah la selce la selce 61 ce la facciamo 61 ah ne prendiamo da vicino dai vediamo un po' una quarantina purtroppo questi c'ho non ho altro l'arco bello vediamo lo posso incantare ma ho paura di no perché ho solamente due livelli abbiamo qualcosa qua no non abbiamo niente non abbiamo nulla non abbiamo nulla per incantarlo questo questo lo mettiamo qua questo li rimettiamo qua la legna vabbè li mettiamo qua tutto tanto le torce ce ne abbiamo andiamo andiamo intermedio ma se io lo scassa adesso eh no vabbè rimane come come tale va bene allora bene se io ti faccio il giro di qua cioè pare che stiamo facendo la stessa strada per andare a prendere la stessa strada della della cosa come si chiama la della magione e ormai la sua memoria sta strada dai fammi risparmi un po' più avanti sto fatto a posto altro che waypoint hai visto che bello waypoint l'ampolla l'ampolla hai visto ma è meno male che ci siete le ampolle io ero andare a casa proprio per fare le ampolle ti rendi conto ma intermedio vai casa che testa di cefalo eh vai si fanno conquiste se dove blobbassare no che cavolo dove era qua mettiamo tutto qua ma ci metto anche l'arco e frecce perché l'anto non mi serve ecco qua e riandiamo no per dormire soltanto di notte vabbè intermedio l'ho preso sì questo sempre se c'è è drago perché può darsi pure che non spawn che sente imbacifico io ho letto che c'è sempre solo che non attacca però non so neanche se lo colpiamo se perde la vita e soprattutto se si rigenera perdere la vita perde proprio bisogna vedere se si rigenera un'altra cosa che mi sono dimenticato è di prendere qualcosa il pistone il pistone per l'uovo aspetta però io se non vado errato l'ender egg si può fare si può craftare end dragon no ender uovo di dragon è craftabile con il software del drago bisogna prendere per forza nebolo questo è facile bisogna andare a prendere per forza questi frutti però per prendere questi frutti bisogna uccidere per forza il il drago questa ovviamente non si può craftare l'uovo si l'uovo si l'uovo si però magari se non ce lo rilascia il il soffio di drago si può craftare non è un problema perché ci bisogna prendere testare ce l'ho che si possono a loro volta craftare semplicemente così facendo la forma del come si chiama i witch witcher no aspetta wither no i wither si chiama uno dei boss forse uno il portale lo so il problema è che per andare nelle isole del land la cittadina la cittadina del land dove ci sono i navi i castelli dove si possono prendere anche qua c'è il baratro dove c'è le piante con con le navi dove appunto c'è la la testa di drago da prendere devi ammazzare il drago perché il drago è custode del portale che si porta nelle isole nella città del land senza quello non puoi a nessuna maniera andare appunto nel 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 portale per andare nella città vediamo dove di qua ma io non stavo andando di qua scusami non mi dire che è qua sotto perché ti ammazzo non capisco dove cavolo mi sto facendo andare cioè questa cosa è rara che succede nel senso che non si rompe dopo due tre volte ma meglio così non l'ho vista qui sotto non la vedo sono scemo io o no qui sotto no è perché stava dietro di me quindi che cacchio vuoi vedere giustamente i vacalli mi sa che ci siamo quasi mi sto facendo andare cacchio mi sto facendo andare io credo che sia qua scaviamo vediamo che io dovrebbe uscire subito se non esce adesso non esce più no mi sa che non è qui mi sa che non è qua ma dov'è? non l'ho vito non l'ho vito qua qui c'è qua? tutta l'acqua? nell'oceano ok dimmi una segreazione fammi una segreazione qua sotto per forza vai qui grazie io scavo qua vediamo un po' che cosa dai film ok Grazie a tutti. Ninja Tato. Ok. Vediamo. Ho il sospetto che non sia qua. Adesso vediamo. Adesso vediamo un pochettino. L'entepelle è andata qui. Quindi. Vediamo. Bisogna scavare sempre perché non prendiamo niente perché. E allora sta più giù. Che cacchio è qui? Non lo so. Proviamo. Mettiamo le luci. Ah. Questa è questa. Abbiamo trovato. Abbiamo trovato. L'ente. La stanza degli ent. C'è un. La. Cos'è? La fortezza. Doveva essere questa. E qua. Se non vado errato. Se non ricordo male. Ci dovrebbero restare delle casse. Semplicemente. Qua si ferma. Qua si ferma. L'abbiamo trovata. L'abbiamo trovata. Fortunatamente l'abbiamo trovata. Oh. Ci sono le casse. E dentro c'è un bel mo. Bu. Mappavete solo sepolto. Attenzione. Attenzione. Vabbè. Qua ci sono. Ci sono altre cose. Oh. E' meglio ritirarsi. E' meglio ritirarsi. Qua non c'è niente. Di qua. Messo. Ah. Qua c'è. La biblioteca c'è. Ok. La biblioteca. E qua dovrebbe esserci una cassa. Uno o due cassa dovrebbe esserci. Queste ce la prendiamo perché fanno sempre comodo. Scusi eh. Grazie. Alla ricerca delle casse. Cassa che non sta qua ma forse sta sopra. Forse sta sopra. Non c'è. Vedete. È messo. Ah Libri Vero Hai ragione Non l'ho visto Grazie Grazie mille Sono passato davanti E manco lo vi Ah eccola qua Bella madonna Possione da fuoco Ah però non Ok Tutte queste cose qua Le mettiamo Nella cesta Nostra personale Allora Vai La porta Vabbè mettiamo No tu no Tu proprio no Fiume Questo ce lo portiamo Perché lo mettiamo qua Nel caso Abbiamo bisogno Di portarci Qualcosa Questo è marble Unite Questa La Diviniamo Perché ne abbiamo In sopra I capelli Questo Fiore qua Perfetto 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 Ok Allora io direi Di andarcene Da qua Qua non c'è più niente No qua c'è qualcosa Ma Messo Qua dovrebbe esserci Il portalone Il portalone Oh È un po' Scazzatino È un po' Scazzatino Ok Qua ci sono Altre cose Questo te lo dico Vabbè Sono lingotti Questi Qua ci sono Sicuramente Altre casse Vediamo Eccola lì Infatti Con altre Pergamene Ok Allora Questa Cioè Questa La mettiamo qui Questa Qua Il filo Ce la portiamo Allora Ho la spada Questa qui Andiamo a trovar Sto portare Dai Che sicuramente Non sta qua Infatti Beh Questa da qua No Qua ci siamo Già andati Sì Già siamo andati Lo cacchio Sta sto portale Scusate Ah Forse sta Una parte Dall'altra parte Non si può andare Ok Non si può andare Questi Oh cacchio E finisce qua Vabbè Ora abbiamo andato Dobbiamo andare Per forza Di là Non ci sono Santi Usiamo questo Dovemmo farcela Che cacchio Senza finire la lava Lava come lava Questa è pianta Terreno Madonna Che paura Ragazzi Tastiera Mi raccomando Posso scassare Grazie Piano piano Va Ok E Dio disse Sia fatta la luce E Figura è merda E luce fu E Guarda qua Che bello Contracolpo Altra mappa De tesoro Attenzione Attenzione Battaglione Vabbè 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 Tu così Appari Qua c'è uno spawn E noi Apertamente Niente Qua c'è una porta Chissà sta porta Dove ci porto Da nessuna parte Abbiamo fatto il giro Black lotus Ottimo Che cacchio è I am its Strong magical vibe Ok Vabbè Ha ragione No Dov'è Questo qua Questo qua Il panino Questo là Questo va qua Questo Questo Ce lo mettiamo Vicino Il panino Che è utile Di qua Adesso Vabbè Niente Abbiamo fatto il giro Giro Qua siamo passati Qua siamo passati Messo Di qua Dobbiamo andarci Di qua Non ci siamo passati ancora E vabbè Che Ho riscippato Un faccio Bella Madonna Che Ci siamo quasi Si scende sempre Mi sa che ci siamo Si sa che ci siamo No Non mi interessa Eh vabbè Però Allora Dividilo Che non mi volete Far trovare Mazza Ragazzi Salve Ovviamente Si Si va Verso La morte Esatto Dobbiamo trovare Sto cacchio Di Di Portale Perché Giusto Non abbiamo Un problema Una cassa Un panino Vabbè Perché Il presentimento Che questo portale Non c'è È un presentimento Mio Oppure È stato proprio Distrutto Quando è stato Lo sport Grazie Vediamo Vediamo da qua Che cosa c'è In nulla Cosmico Ormai questi Sono labirinti Anche qua Non c'è niente Inutile anche Andarci Vediamo di qua Qua Non c'è Un 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 Di Di qua Niente Cazzo Stasso Signo Portale Signo Portale Le Che ti rompo Ok Qua siamo andati No Ok Qua siamo andati Qua siamo andati Qua siamo andati Siamo andati qua No Ah eccolo qua ragazzi Abbiamo trovato Il portale È il portale Ok Allora Noi lo spawn Ce lo mettiamo Esattamente 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 Tu cacchio Non lo mettiamo Sto spawn Io direi Il problema è la lava Io non mi metto qua Portale E vabbè End Che poi sarebbe la fine La fine di tutto La fine dei nostri giorni Ma io Ma io se le porte Me le metto qua E a casa le fondo E ci facciamo i lingotti Vediamo Allora È la miseria Ce la facciamo Uuuuh Come no Ammazza Tutti pronti? Ho un po' di ansia Queste le mettiamo qua Perché non vorrei far danni La palette Le mettiamo qua Le torce Mi faccio il piacere Sto da qua Arco Freccia E questo qui Le mettiamo qua Uno Due E tre Andiamo Andiamo a vedere Che cosa troviamo Adesso È la curiosità Progresso compito Fine Ma neanche persone Ah no Il drago c'è Ci appare Lì Dobbiamo solo Vedere Mi sa che siamo Capitati In una zona Altamente pericolosa Io direi di chiudere qua Sì Assolutamente Sì Assolutamente Sì Ecco qua Io direi di andare A quest'altro lato Che dire Ah Rexon Grazie Scaviamo verso l'alto Scaviamo verso l'alto Ok Scaviamo verso l'alto E vediamo Che cosa Ci otteniamo Allora Io direi Dove cacchio stanno Le altre Sono qua Sì Sono qua Marble Vabbè Marble Va bene Orsis Pronto Che c'è fino a parte La E' sparita La Vabbè Ma che C'è qualche problema Ma perché è successo Questo Perché è successo Questo E tutta la mia roba Deve andare a finire Che cacchio è successo 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 Che cacchio è successo? Ma era una semplice Mabble Possiamo venire a dormire E adesso come faccio ad andare di là? O Santo Antonio Se esco rimango così Rimango così Io provo a fare A uscire e a rientrare Perché non lo so Non mi è mai successo una cosa del genere Allora Sperando che sia tornata la normalità Vediamo se vedrebbe Il trombone Il trombone Parca puttana Lo devi capire Si era bugato tutto Si era bugato No io giuro che Chiudevo la serie Se facevo una cosa del genere Drago? Drago? Drago ma fuori Dov'è? Cos'è? Oh In teoria io dovrei Cris Che resta è a crystal Io lo prendo In teoria Non mi dovrebbero attaccare Perché sono in pacifico In teoria Poi Eccolo con la render Drago Che resta è a crystal Ok Abbiamo trovato Il respiro del drago E adesso Sotto con arco e frecce Speriamo Questo ammazzo No niente Allora io Sapete che cosa faccio Sapete che cosa faccio Un cazzo Che vuoi fare Allora vediamo se il drago Viene qua Dobbiamo fare in modo Ah drago E mo mi hai rotto io Drago Stia fermo un attimino Grande così Io non so Drago Mi piaci Stiamo lavorando qua Nel drago Stiamo lavorando Stia fermo un attimino Stia fermo un attimino Stia fermo un attimino Eh vabbè domani Io l'ho pure Oh Un'anima di solito Ragazzi il drago Compe veramente Che cacchio gli faccio io qua Io gli faccio niente Niente le butto A testa di cefalo Allora gli faccio così ragazzi Allora gli faccio una bella cosa Perché altrimenti non ne usciamo più Se il drago La fa finita E ci fa fare il nostro lavoro Signor drago La smetto Oh cazzo no Porca puttana A casa mi ha fatto spawnare Dai Ah no aspetta Che portale Devo andarmi a recuperare Le cose Intanto abbiamo la Ci portiamo questo Ma io mi farei anche l'armatura A questo punto Si può fare di ossidiana L'armatura Se ce l'abbiamo Tanto ossidiana Ce l'abbiamo Mi sa di no No non ce l'abbiamo L'essidiana Dobbiamo farcela Diamanti Quando ne abbiamo 32 Non ce la facciamo 81 La possiamo fare di smerardo Vediamo Si la possiamo fare Ok E' un problema Ma si Facciamoci anche la spada Di Di smeraldo Ma che E' un problema E' un problema Do cacchio ho messo Le cose Secondo voi Vi ricordo Ah qua Ecco qua 1, 2 E siamo pronti 1, 2, 3 E vai Ah vero Anche i piedini Vabbè i piedini Ma Sì ma Non Ti faccio vedere No Dov'è qua Penso che sia Una cosa Vedi Pacifica E' una cosa Normale Penso io Portale End Ok Magari Io vorrei sapere Perché questi Non vanno Direttamente Non ci facciamo Queste domande Inutili Ok O va a pescare La nostra roba Dove stava Possessava Vabbè Dove sta il pilone C'è quello Però io mi raccoglierei Anche un po' Di questa roba qua Avessi Avessi avuto Il mio piccone Eh Sta lì Sta tutto Lì subito Questa qui Non fa mai Male Questa pietra qua Effetto Andiamo lì E raccogliamoci Le nostre cose Mortacci tua Trago Io non ti incazzavo E chiedendo A buschi Ecco qua Ancora No 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 E dai E dai Malla Niente Salve a tutti Benvenuti Ne drago Mi ha rotto i coglioni Meno male che mi ha fatto Atterrare per terra Mi ha fatto Morire per terra Dai Arifamo Sì Arifamo Cosa L'altro piccone No Che cacchio Sta andando Cane Se ti porto Con me E ti do In passa A drago Che succede Ehm L'altro piccone Lo portiamo di qua Dai Portiamo sto piccone Ma uno fragido Questo qui Va bene Vediamo che va bene Ehm Portate Drago Mi hai rotto Veramente Mi hai rotto Sì la prossima volta Perché ci morirò di nuovo Sicuro Senz'altro Lo farò Lo farò Lo farò Se poi sbaglio pure Il buco Per tu uso Eh dai Eh dai Muoviti Mannaccia Pure a te No Aspetta Non è di qua Di là Grazie Grazie Dammi tregua Dammi tregua Figlio di Tutta una roba mia Ancora Ancora Sa fa Non mi dico Ho perso tutto Perché mi incazzo Posso tutto Nooo Vi devo fare un fortino Volevo fare un fortino Dai E noi ci facciamo questo fortino Drago Eh no Mi rompe I coglioni Dobbiamo mangiare Assolutamente Vieni di qua Eh niente Eh niente Eh niente Ragazzi Non so capace 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 Non fa per me Il problema è che Devo per forza Rompere il culo A drago Altrimenti Non so cazzi Prendiamo una cassa Io già sto tremando Porca puttana Mannaggia Allora E che mettono Ste quest Del cazzo Purtroppo Per andare avanti Devo per forza così Devo andare A prendere un altro piccone Prendere un altro piccone Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. 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 Eh no, eh no, ma allora sei un figlio di puttana, scusami, eh, drago, sei un figlio di puttana. Ma come cazzo fa? Non lo so come si fa? No, questo è un figlio di puttana. No, non vedo niente, io... Aspetta, aspetta, proviamo a fare una cosa. Aspetta, proviamo a fare una cosa. Keep inventory true. Keep inventory true. Keep inventory true. devo mettere, devo mettere, devo mettere, devo mettere, devo mettere, ecco qua. ecco qua, ecco qua. Ecco qua, ecco qua. Eh, ecco qua, ecco qua, ecco qua. Eh, ecco qua, ecco qua. a vita. A vita. Ovviamente, ecco qua, ecco qua. Ovviamente, quando ritorneremo, se ritorneremo, se il dragon mi fa perdere la pazienza prima. dai, ecco qua, ecco qua. Dai, andiamo direttamente da quella fortissima. Dai, devi correre. Devi correre come non mai. Ok. Ricopriamoci tutto il nostro materiale. Ok. 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 Guarda! Non mi da nemmeno il tempo. Non mi da nemmeno il tempo. Nemmeno il tempo. Di campare. Devi morire, figlio di zoccola. Nemmeno il tempo. Ragazzi, io sapevo che dovevo fare tutto questo sclero. Io non... Ma neanche ti lo tentavo di trovarlo, il portale. Ma che cazzo? Ma non ne hai nemmeno il tempo. Ma dammi il tempo di campare. Porca zoffa. Eh, lui, ma che era cosi? Ma cosi stronzo il drago? Grazie a tutti